Risotto alla carbonara! Guanciale. Tagliamo pure l'imballaggio. Via la cotenna. E via anche la speziatura. Poesia. Tagliamo a fiammifera. Ripetiamo lo step con tutto il guanciale della terra. Pentola bella calda, guanciale. Shakey shakey, rendiamolo bello cuispey! Scoliamo il guanciale. E conserviamo il suo grasso in frigo per mantecare. Stessa pentola giù con il riso. Saligno. E un botto di pepe! Acqua bollente e cuociamo per 12 minuti. 6 tuorli d'uovo. E ma sono tanti 6 tuorli d'uovo! Già. Un container di pecorino romano. E un container di parmigiano. Shakey shakey! Il cemento è pronto. Il riso è cotto, facciamolo riposare. Cemento nel riso. Shakey shakey! Un po' di grasso del guanciale. Shakey shakey! Creamy! Nel piatto. Guanciale. Pepigno.